buonasera a tutti e bentornati in questo quindicesimo episodio di minecraft siamo di nuovo tutti qua con delle fortissime novità tenetevi pronti ti sei perso parecchie cose che adesso vedrai eccoci qua come vedete è stato modificato qualcosa ma ci sono delle costruzioni quella sarà la mia stanza qua sto mettendo il parquet ovunque la dentro c'è la fornace che avete già visto sinistra ancora a la sopra allora oggi come vedete siamo abbastanza organizzati perché dobbiamo andare nel nether cos'è crano mai visto ha detto cos'è una farm la si ho fatto la super farm di grano manuale perché talmente grande che non può essere automatizzata e molti di conoscere un pazzo fare farm di questa entità perché come vedete abbastanza grande cioè e devo ancora finirla quindi sicuramente siamo già 38 ok abbiamo la ferrovia la ferrovia devo ancora abilitarla ci vorrà parecchio tempo allora siccome andiamo nel nether voglio essere sicuro di avere parecchio cibo quindi andiamo nella mia farm di zombie a prendere del cibo e tanto ne ho avuto parecchio questa è stata la prima grotta per miniera abbandonata che sono entrato dentro quando avevo un po di armatura massacrato chiunque si metteva davanti a me questo no era tutto naturale questo adesso entriamo nella zona più sicura della mappa dove c'è una porta il mondo che lagga perché deve ancora caricare ma va bene lo stesso tanto la strada ormai la sua memoria e qua c'è la farm di zombie abbassiamo un po il volume perché è un po eccessivo allora qua c'è la farm di zombie qua dietro devi rompere un blocco non lo rompe ho già scavato questo ho scavato tutto io eccoci qua ovviamente guardate che bello qua sono solo diciamo alcuni perché come vedete qua un po pieno dovrò svuotarlo dovrò fare l'ina questa è per le robe che droppano gli zombie che non sia carne ma direttamente lì no e anche l'armatura l'ho messo anche il cerno zombie dorato si lo so li lascio lì allora abbiamo fatto il rifornimento ora andiamo nel nether vi avevo promesso dire che andevamo a esplorare la fortezza le prime tre ceste le ho esplorate da solo perché volevo essere sicuro vedere com'era cosa ci serve nel nether nel nether ci serviranno le frecce no ma da che da prendere da prendere non lo so cosa ci sarà cioè ho trovato un po di armature diamante tipo poi ho cos'è sette selle ma ci abbiamo tutto abbiamo tutto per adesso andiamo a prendere vedere cosa troviamo quindi andiamo come cosa puntiamo dei primerci vedere un po quello che c'è non so neanche io come sarà mi sono preparato con una corazza di protezione dal fuoco per proteggermi dai cosi come si chiamano gli stranfieri rotanti con le fiamme qui ho la mia farm di lana portale c'è c'è anche di là ma è uno sbagliato c'è non mi porta dove voglio io entriamo in questo bellissimo mezzo portale e vediamo cosa ci troviamo davanti ci prepariamo vediamo cosa succede ok allora quanto fai la base ci vorrà con calma ho già messo una cesta la e basta allora ho chiuso tutte strade ho fatto la strada che porta direttamente la spero di non uccidere un piggy e con l'arco perché sennò sono morto qua inizia già a laggare speriamo che vada tutto bene ci troviamo quando saremo alla fortezza infame t'ho visto anche se lo ammazzi non riesce a prendere niente io voglio ucciderlo che mira è un devo ancora esercitarmi un problema di meno adesso qua mi pareva aver visto una volta degli scheletri qualcosa del genere senti la spada no? i corsi, i scheletri neri? si qua ci sono gli scheletri normali ah e adesso l'ha preso? mmm non mi ricordo so che avevo talmente scago dei rumori che sentivo che wow 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 cos'è quella? è lo spawn che si ho spawn quella roba la la si ci sono due blades l'hai presa con la scatola aspetta qua c'è qualcosa qua io direi di chiudere non è una bella caduta non mi piace ho già rischiato una volta quel gasto ehi quella quella può pure restarsene lì lo puoi sciogliarlo? si ma non me la faccio perchè devono farmi questo? io non voglio cadere lì grazie guarda lì dimmi se senti roba strana non ci potete sparare oh t'ho visto è inutile che ci provi eh è un gasto prova? si ormai l'ha ucciso ah non mi prendi un po' più la preso va beh vuoi giù che è successo? è evitata l'ultimo freno entrati e poi riporto delle spedigliele indietro va bene avanti oh vai vai la c'è qualcosa una torcia no uno scheletro spero che sia uno scheletro e non sia un piggy è uno scheletro? si è fortissimo con cos'è? cos'è che c'ha? potenza 5 impatto 1 indistruttibilità è una potenza infernale c'è una roba cos'è che mi ha dropato? si sono sti piggy prima o poi guarda sti piggy infernali adesso dobbiamo capire dove andare sti porca miseria da un po' i cederi ma quella è quella è la spuone? è la spuone raga trovato zitto anche tu muti vai 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 e come si fa ad andare? vai veloce devi saltare salta quel pezzo lì tu completalo io voglio ricompletarlo porca miseria santa vai di spada vai di spada adesso come di spada no? vado di arco a sti parte sei pazzo che vado di arco porca miseria ma pigliato devo trovare un modo di chiudere cazzo e li lo spawna si lo so che è qua mi inseguono guarda là sopra cazzo che mi... cosa? ma sto qua mi insegue e sto infame non ti insegue fidati beh in caso mi sono piazzato qua porca miseria dobbiamo riuscire ad arrivare la la senza morire guarda bisogna fare una carica eh non riesci a correre forte nel nether eh a parte che sono pesante come una quinta lata proviamo con la spada rischiamo a rimandarle indietro i colpi eh eh c'è nessuno ma adesso che ne è qui in teoria tappandolo così tutto si dovrebbe evitare lo spawn vediamo se... ma ti salva che lo spawni almeno uno no lo tappiamo un attimo eccolo qua lo volevi? spada spada non vai neanche di spada qua quello è bello solo lì a che distanza l'avvicinato guardate che bello che è non mi vede vedi non mi vede allora la spawn posso farmi lo spawner qua adesso senti quindi è una figata sto infame adesso devo riuscire si manca il blocco e recupero porco schifo c'è un altro lì e quello è bello ah eccolo dov'è dov'è? dietro a fiamma porco schifo ah ma spawnano i continuo sti bastardi ahah porca puttana aspetta bisogna... qua c'è la tettoia ah lo so bisogna vedi che... ecco la verga la verga cazzo la verga eccola lì ce n'è un'altra aspetta aspetta lì sotto lì sotto c'è niente aspetta aspetta voglio provare a vedere una roba ha che è meglio che la prendi perchè è rara è lì sotto Si lo so ma voglio provare a fare una roba anche Ma piglia la prima Vedi 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 Ma non ti vede intanto Dove lì sotto? Lì Lì sotto lì No dimmi Lì Guarda esce no Aspetta voglio vedere Ah là sotto Eh dai buttati Ah buttati forse scaletta Ne abbiamo due Se sbaglio ce n'era uno sotto Vedi sai No a sinistra Sai le scale Sai le scale? Lì lo manzico la spada Non ti spara Non ce la faccio Ok Non ce la faccio Cazzo ce la fatte come? Da dove? Da lì Porco schifo Guarda vai ma ti togli due cuochi miei Cazzo si però A lungo andare Muori Infame Ma non va se sta troppo a qualcosa Spada Spada Devo riuscire a come cazzo si fa Beh io direi di uscire adesso Sto cercando di capire come Tappare lo spoon ma Tua madre Morto No Ho volato su Coglione La verga la verga Basta troppo rischiosa Piglio vado via Ci troviamo a casa Ci vediamo a casa E Alla prossima puntata Ciao